E' l'Italia che cambia, è l'Italia che pedala Su sentieri differenti, ecologici e coerenti Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai Quest'Italia che cambia, siamo noi Cocovan è nata da un viaggio che abbiamo fatto io, Lorenzo e Vincenzo Due anni e mezzo fa, avevamo tre amici e condividevano un appartamento a San Lorenzo, a Roma Girando per la Spagna, senza una meta ben definita Ci siamo imbattuti in un camper con due ragazzi splendidi Che vedendoci senza un euro e senza una tenda sulla testa Ci hanno ospitato nel loro camper In maniera totalmente inaspettata abbiamo passato tre giorni stupendi insieme con Nando Quindi abbiamo cominciato a pensare E se questa diventasse un servizio per gli altri Abbiamo cominciato a pensare, a giornare su questo Abbiamo visto che nessuno faceva una cosa del genere Condividere lo spazio dell'alloggio mobile E quindi abbiamo buttato la prima idea La prima landing page online Il primo piccolo portale E da lì si è cominciato a creare questa community Di camperisti e viaggiatori Intenzionati a condividere il viaggio Ma non solo il viaggio Il viaggio è tutto ciò che comporta Quindi l'esperienza, la conoscenza La storia che c'è dietro ognuno dei viaggiatori E funzionava E tu sei il proprietario di un fantastico camper Ma tra mille impegni lo lasci parcheggiato a gran parte dell'anno E anche quando sei in viaggio hai numerosi posti vuoti E spendi centinaia di euro l'anno in manutenzione Relax Da oggi c'è Cocovan Il primo portale dove puoi condividere o noleggiare camper e van Direttamente da privati E scoprire le informazioni più interessanti Sul viaggio che stai per intraprendere In questo momento noi abbiamo più di un centinaio di camperisti Che si sono lasciati coinvolgere e hanno proposto All'interno della nostra piattaforma Noi all'interno di Cocovan abbiamo anche una sezione apposita Dove si possono trovare i viaggi anche solo per interessi E per ambiti Quindi viaggio per andare a un festival Viaggio per fare self Viaggio diciamo Vari tipologie di diversi viaggi Quindi chi non ha un'idea molto chiara di cosa voglia fare Per esempio queste strade può trovare il giusto match La giusta vacanza anche solo andando a cercare La tipologia di viaggio che può incontrare il suo interesse Una volta che ha trovato il viaggio che può interessarlo Mettendosi in contatto con l'utente Possono comunque anche rimodulare le tappe Il primo viaggio è stato nell'estate 2016 Abbiamo poi lanciato il primo mini portale Qualche mese dopo Ma è diventato una vera e propria realtà Diciamo chiamerei imprenditoriale Solo nell'estate scorse Nell'estate 2017 Adesso a breve stiamo per lanciare Un restile totale della pagina E quindi oltre al servizio di condivisione Dell'alloggio mobile, del camper o del van Anche quello di noleggio tra privati Così da permettere di soddisfare tutte quelle che sono Le esigenze del camperista e del viaggiatore Nell'inizio l'idea di Covan è stata E' sembrata molto forte Perché era un po' un'esaspirazione Del concetto della condivisione Ma era proprio quello che noi volevamo come fondatori Creare veramente una specie di rivoluzione Nel viaggio delle persone Facendo sì che quella barriera Che di solito in viaggio come nella vita quotidiana Ci mettiamo e fa sì che le persone riescono ad entrare veramente in contatto E venisse completamente distrutta L'Italia che cambia sono persone più che altro Persone che hanno idee E nonostante comunque le tantissime difficoltà Che possono incontrare Si buttano, si mettono in gioco E seguono una propria idea Coniugandola con tutto ciò che è vita concreta Quest'Italia che cambia Non puoi fermarla ormai Quest'Italia che cambia Siamo noi